Un ritorno all'inizio, eh, Jack? Mio fratello ti ha portato via da qui e poi ti ha addestrato. Non posso rischiare di farmi vedere o di ferire un agente di polizia. Non posso rischiare di farmi vedere o di ferire un agente di polizia. Assaggia questo! Non posso rischiare di farmi vedere o di ferire un agente di polizia. Sì, non posso rischiare di farmi vedere o di ferire un agente di polizia. Non posso rischiare di farmi vedere o di ferire un agente di polizia. Mi stai chiedendo se ci sono altri pazzi omicini in giro per la città? Non credo. Allora Aberline sarà qui presto. Stiamo pronti? Sì. Sì, sì. La scia di morte di Jack continua. Sì, sì. 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 Questo e il tuo ricordo dovrà essere cancellato per sempre. Riposa in pace, Jack. Tu e tutti i tuoi folli seguaci. Jack. Miss Fry, cos'è successo qui? Niente, Ispettore. Non è successo niente. Fidati di me. Jack lo squartatore è morto. Ispettore! Aiutami, Frederick. Nessuno deve sapere che Jack era un assassino. Ispettore! I giornalisti sono qui! Voglio quegli avvoltoi lontano da qui, chiaro? È finito il gioco. Sono qui. Oh, oh, oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.